Ciao a tutti, questo video lo dedico soprattutto a chi ha voglia di intraprendere come nuova esperienza e di maniera seria ed appassionata il mondo della politica locale di Chioggia e può sicuramente trovare interesse ascoltando la mia esperienza. Da giugno 2015 mi sono iscritta alla Lega Nord della sezione di Chioggia e fin da subito sono stata molto attiva come sostenitrice in quanto ho partecipato a tutti gli incontri di sede, gazebi in piazza, manifestazioni a Milano, a Pontida, presente a tutti gli incontri formativi pubblici, ho dato anche il mio contributo nelle ultime elezioni amministrative candidandomi come consigliera comunale e mi impegnavo a informare in maniera costante i cittadini attraverso di video tutti utilizzati dalla sede che ho pubblicato sul tema delle trivelle, immigrazione clandestina, legittima difesa e ultimo sul referendum costituzionale del 5 dicembre dell'anno scorso, video tutti presenti su Facebook e Youtube. Giusto per la cronaca e per il mio punto di soddisfazione, visto l'impegno che ho profuso nel realizzarlo e senza fare riferimento di partito ma da semplice cittadina e partecipando anche a più di 10 incontri formativi quasi tutti lontani da casa, il video sul referendum che ho realizzato ha avuto oltre 20.000 visualizzazioni e commentato positivamente da molti esponenti politici della Lega, ad esclusione di chi? Dal direttivo di sezione di Chioggia, che invece cosa decide di fare? Consegnarmi una bella lettera di richiamo senza alcuna firma, invitandomi a sospendere ogni attività riguardo al referendum e convocata a rapporto per comunicazioni urgenti. E mi raccomando, che non vi venga in mente di pretendere la firma, perché può succedere che vi venga sì firmata ma subito dopo stracciata in faccia come è successo a me, gesto secondo me particolarmente grave verso una persona. E poi, una volta chiamate a rapporto, non credeteci se vi dicono che sarà tutto verbalizzato, perché non lo faranno mai. Anche perché come fanno a verbalizzare? Che ti autorizzano a realizzare un video dove il giorno dopo ti richiamano per averlo realizzato. Assurdo! Bene, dico, ho continuato con le attività di sezione, gazebi e altro, fin quando arriva il fattaccio. Che non vi venga in mente di essere magari a Venezia e di trovare il tempo di assistere come semplice cittadina ad un consiglio regionale. Come? Una sostenitrice ultima arrivata che si permette di assistere ad un consiglio regionale. Cosa facciamo il giorno dopo? Sospesa con un semplice messaggino WhatsApp e in seguito raccomandata di avvenuto depenamento dal libro di soci, datato 31 marzo scorso, senza specificare alcun motivo. Quindi di fatto è espulsa dal partito. Bene, dico, faccio subito ricorso al provinciale, al nazionale, arrivando perfino al federale. Non serve a nulla, se hanno deciso così è, rispenderanno anche il vostro ricorso, continuando a nodare i motivi. Non ho avuto la benché minima possibilità di difendermi. E subire questo dalla Lega, che tanto si batte per la legittima difesa, è piuttosto a dir poco deludente. Questa vicenda mi ha afflitta e segnata, proprio perché l'ho ritenuta profondamente ingiusta. E senza un motivo plausibile e che certo non meritavo. Quindi, un consiglio a chi ha voglia di intraprendere un impegno politico, non metteteci troppo a passione, non trascurate troppo la famiglia per le attività di stazione e anche privatamente. Non siate troppo visibili sui social, non siate troppo presenti e visibili nella vita sociale, magari anche nel fare volontariato nelle strutture solidarie della città, o che ne so, a manifestare assieme al Comitato non GPL per il bene del Paese. E se magari siete donatori di sangue da 23 anni, che non pensate di candidarvi come consigliere Avis. No, non si può, perché anche questo potrebbe essere un motivo per essere depenati dal partito. Anche se è tutto assurdo. Quindi, per non essere espulsi, rimanete comodamente seduti, giusto a qualche cena conviviale, date la vostra quota, rimanete anonimi e passivi. Concludo nel dire, cari partiti, date spazio alle nuove leve che hanno voglia di fare, non rimanete a circuito chiuso. E sull'argomento sentite proprio come si esprime il segretario federale della Lega nel congresso di Parma del 21 maggio scorso. Una riflessione sull'interno della Lega. Vorrei sezioni aperte, e su questo dedicherò la massima attenzione. Se ci sono le stesse sezioni che dagli stessi vent'anni vedono le stesse cinque facce, vuol dire che in quella sezione c'è qualcosa che non funziona. Vuol dire che stai tenendo fuori qualcuno che magari potrebbe portarti via al posto in Consiglio Comunale, in comunità montana. E quelle sezioni non servono. Aria nuova. Magari se tutto questo fosse rispettato. Ciao da Laura Doria.